con quella di Luca De Donatis, che è un altro pilota eccezionale in pista. Oggi abbiamo tra i migliori piloti d'Europa, sicuramente i migliori italiani. In queste condizioni iniziali abbiamo salvato il trippico sulla sicurezza, voglio ricordare che ovviamente tutti i dati fino a servizio del pubblico, passare sopra la strada, e di buona la vita in cui io ho proprio camminato. Ecco, io ho messo il fruto, io ho messo il mio attimento, 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 godiamocela, e intanto godiamoci il volo del Mimmi 24 di Francesco Sanferoni, che dobbiamo volare con i carrelli retratti e richiusi, in un passaggio radente che sto facendo in casa. Vi lascio accedere. Grazie. 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 La macchina che vedete volare con un volo estremamente realistico e classico, sembra facilissimo da pilotare se ai comandi c'è un pilota di Francesco il pilota di Francesco non è assolutamente facile adesso è molto fermato ma l'abilità del pilota va a seguire in questi momenti ti prego Francesco di passare così di su grazie a tutti 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 grazie a tutti